Ancora imbarazzo per Stefano De Martino a Medin Sud, il fronte a Belai Rodriguez ormai è un classico di Pepe Iodice, il comico che è il solito incalzare il condottore chiedendogli conto del suo status sentimentale. Il gossip imperversa con voci smentite da tutti gli interessati di un flirt tra l'ex ballerino di Amici e un'ex ballerina proprio del comedy show di Rai 2, Maria Rosaria Leone. Maio dice Ponsecchia il presentatore riferendosi a una sua presunta leson con una collega presentatrice più anziana di lui. Non vorrei fare gossip ma una domanda te la devo fare, ma davvero ti piacciono le vecchie le? Fai il zuzzosiello? Chi è questa conduttrice? Dai su, secca la replica di Stefano, sempre molto abbottonato sul suo lato privato. Sono fake news, tu non devi leggere il web. Caso chiuso, almeno fino alla prossima puntata. E voi cosa ne pensate? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto. Grazie.